Fermati subito! Chi c'è? Da quanto tempo, Inaichiko? Cinque. Ah, ma certo, sei venuta anche tu a giocare con noi! Ti sbagli! Ah, da non credere, Nori mi ha fatto portare decisamente troppe cose. Sono venuta qui solo per una ragione, il gioco di Alice. Ah, e così allora? No, adesso no! Perché mai? Voglio ancora giocare con Tomoe! Se le cose stanno così, devi solo vincere. Nel gioco di Alice è necessario impadronirsi della rosa mistica dell'avversario. Con lei che perde, non potrà più muoversi né parlare. Diventerà una bambola senza vita. La vincitrice potrà avvicinarsi sempre di più alla fine del gioco e diventare Alice. Solo questo è lo scopo di noi Rose and Maiden. Per questo siamo state create. Pensi di non riuscire a vincere? Sei cattiva, Cinque! A quanto vedo non sei cresciuta per niente. Continui a piangere e a lamentarti. Per questo rimani sempre sola. Non stavo piangendo! Cinque, tu molto presto... Verrai sconfitta!